Ti vado a proporre un'altra contestazione, Jaime. Il signor Rodolfo Salas Gemondi è che queste persone hanno i titoli, hanno nomi famosi e sembrano di gran livello, ma quello che dicono, di fronte alla verità, sembrano essere solo un sacco di sciocchezze. Quindi Rodolfo Salas Gemondi, che è un paleontologo ricercatore presso l'Università Peruviana Cayetano Eredia e anche ricercatore associato presso il Museo Americano di Storia Naturale di New York, ha sostenuto che le presunte mummie umanoidi tridattili, ossia Contredita, di Nazca, che sono state presentate al Congresso Messicano, sono una farsa. Secondo Gismondi, le mani e i piedi di queste mummie sono in realtà resti umani, a cui sono state amputate le dita ai bordi per ottenere un aspetto alieno, e che le tre dita della mano sono il risultato della rimozione di falangi e metacarpi del pollice del mignolo. Secondo lo specialista, i piedi avrebbero sofferto le mutilazioni, oltre al taglio della pelle e dei tessuti molli, dietro le dita dei piedi, producendo un piede con dita estremamente lunghe e senza supporto di appoggio della pianta, e funzionalmente inutili. Questo lo ha detto in un'intervista del 16 settembre, nel programma 2023 in 24 ore, di Panamericana Television. Mi hai detto che è un archeologo? È archeologo? È paleontologo e ricercatore presso l'Università Peruviana Cayetano Eredia. È ricercatore associato presso il Museo Americano di Storia Naturale di New York. Se è un paleontologo, che ne faccia uno? Che faccia un corpo? Non importa tutto ciò che dice. Non ha dimostrato nulla. Non si tratta di parole qui. Se si tratta di una prova fisica, devi dimostrarlo fisicamente. Non ha mai avuto questi corpi nelle sue mani. Ha visto immagini scadenti. Non è mai venuto a vedere i corpi. Non è mai andato all'Università di Ica. Non ha parlato con gli esperti dell'Università di Ica. Lì c'è un'equip di 12 specialisti, un'equip multidisciplinare, che sta analizzando i corpi e che nelle prossime settimane presenterà la sua relazione preliminare. E speriamo, prima della fine dell'anno prossimo, la loro relazione definitiva. È lì che vedremo. Con le persone che hanno indagato su questo, se si tratta o no di un'evidenza reale. Perché penso che quelle del signor Gismondi siano solo parole. Se dice che possono essere fatti, che ne faccia uno. E ci dimostri che quello che dice è vero. Che si possano amputare. E che non si noti. Che si possa ricreare tutta la tua mano. come queste mani o questi piedi. E poi volentieri presteremo attenzione a ciò che dice. Intanto sembra più un'affermazione fatta di pancia. E non con la testa. Chiaro. E mi sembra, Jaime, che ci siano stati tentativi da parte del governo peruviano di sequestrare i corpi all'Università di Ica. Cinque volte è andata la polizia. Non solo le autorità. La polizia è andata all'Università e ha tentato di farsi strada con la forza. E l'Università eroicamente non ha permesso che venissero portati via. Perché pensi che non vogliono che siano portati via? Perché sono corpi falsi? Perché pensi che siano così interessati a continuare le indagini? Perché proietterà la sua Università a livelli mai visti prima? Potranno ottenere risorse per continuare con la ricerca? Possono realmente aprirsi al mondo? Se gli scienziati non si fidano di me perché sono un giornalista devono fidarsi degli scienziati dell'Università di Ica che vadano lì perché io credo che questo molto presto arriverà nelle prime pagine e gli scienziati dell'Ica apriranno l'opportunità a qualsiasi scienziato o istituzione di collaborare con loro per continuare la ricerca. Tu credi che gli scienziati dell'Ica farebbero questo se non fossero convinti? sarebbe anche la fine della loro università come sarebbe anche la fine della mia carriera la fine della carriera del dottor José Salce e di tutti noi che abbiamo partecipato incluso il politico che ci ha portato lì perché questo non verrebbe mai perdonato rimarrebbe come una delle grandi frodi della storia quindi sarebbe assurdo per me che ho più di 50 anni di carriera in questo momento portare un corpo falso in un luogo a un palcoscenico mondiale dove tutti porrebbero domande e lo metterebbero in discussione quale folle farebbe questo? pensi rischierei in questo modo? io sono convinto per questo l'ho fatto perché è certo perché è vero e perché non posso tacere perché questo fenomeno ci dà davvero l'opportunità realmente di unire l'umanità l'unica cosa che può unire l'umanità è la presenza extraterrestre nient'altro il mondo è più diviso che mai le guerre sono ovunque le malattie il cambio climatico l'estinzione di massa delle specie di animali degli insetti e questo fenomeno potrebbe porre fine a tutto questo e potrebbe unirci se mi chiedi perché lo faccio per questo lo faccio perché credo nelle generazioni del futuro e che i bambini meritano la verità basta con così tante menzioni è il momento di presentare le evidenze avendo queste prove e l'accesso ad esse ho sentito l'obbligo di farlo che era rischioso? sapevo che era rischioso ma quello che non sapevo è che avrebbero ignorato tutte le prove che sono state presentate per presentarne altre che sono false e sulla base di queste hanno cercato di screditare le prove straordinarie che stiamo dimostrando ma sapevo che sono prove fisiche è questa la differenza sono fisiche non sono fotografie non sono video tutto ciò è sempre stato screditato hanno sempre detto che può essere qualcos'altro io stesso ho presentato un corpo sette anni fa otto anni fa e non potevo difenderlo sì l'ho difeso e ho dimostrato che si trattava di un altro corpo del quale si stava parlando tuttavia è stato molto difficile difendersi quando qualche scienziato mi ha detto non posso toccarlo non posso leggerlo non posso sapere quale sia il suo DNA non posso dire che sia vero o no abbiamo bisogno di prove fisiche per poterlo fare ora le prove fisiche ci sono non ignoratele non ignoratele indagatele non las ignoren investiguelas